all'alba nella valle innevata e cristal non sa come si dicono alcune parole le imparerà adoro l'inverno lili e non ti piace l'estate sì anche quella ma in inverno c'è la neve non lo so coni ai mi è scappata coni lo senti esatto cutie ora tu crystal iglu iglu esatto iglu in inglese è iglu ma suonano uguali ciao che succede qui sto insegnando a crystal alcune parole in inglese che hanno a che fare con l'inverno adoro l'inverno l'inverno in inglese è winter winter fantastico coni mi aiuterai con la lezione wow quanta neve e come si dice neve in inglese nev no si dice snow 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 che bravi allievi che ho guarda stanno arrivando bonnie e pinci ciao cosa fate stiamo facendo lezione d'inglese che coraggiosi col freddo che fa hai ragione che freddo vado a mettermi i guanti gloves cos'hai detto bonnie gloves significa guanti crystal gloves ottimo noi andiamo fa tanto freddo sì ciao e riscaldatevi per beni come si dice sciarpa in inglese questa è difficile sciarpa in inglese è scarf scar scarf venite a continuare la lezione nella mia casa igloo ci piacerebbe ma lily e io dobbiamo andare ora ve ne andate tranquilla crystal sto io con te ci divertiremo un sacco nel tuo igloo wow è bellissimo il tuo igloo è stupendo c'è una sala una tv libri un osservatorio assaggia un biscotto crystal biscotti in inglese è cookies cookies che buoni che sono i tuoi cookies abbiamo imparato molto oggi vero sì non so se mi ricorderà tutto beh c'è una soluzione ripassiamo la lezione con una canzone a b c d e f g l'inglese imparo così per saperlo parlare bene ripetiamo tutti insieme inverno è winter quanto è glove igloo è igloo che cos'altro sai che cos'altro sai igloo è igloo che cos'altro sai è più divertente così sì è vero mi è piaciuta la lezione di oggi e ora andiamo a giocare nella snow ahahah ahahaha ahahah 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 andiamo andiamo a giocare nella neve vi state divertendo fare snowboard è divertentissimo guardate il mio pupazzo di neve ciao mister snowman che intelligente perché snowman significa pupazzo di neve anch'io ho imparato molto coloretta oh ti sei raffreddata? oh crystal non stai tanto bene non voglio raffreddarmi ho tanto freddo penso di avere la febbre il miglior rimedio contro il raffreddore è il calore coprendomi? sì e con del latte caldo per mantenerti caldo all'esterno e all'interno oh 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 che buono e sto molto meglio ora bene stai un po' meglio grazie lili sono fortunata ad averti come amica grazie per le cure ho 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 magick dia oh ah adoro la neve lo sappiamo ai Ha 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 ha